Santi Innocenti Oggi si festeggiano i Santi Innocenti, cioè i bambini di Betlemme, fatti uccidere da Erode con la speranza di sopprimere Gesù. La strage degli innocenti fu provocata dai magi, venuti dall'Oriente per adorare il re dei Giudei, nato della stalla di Betlemme. I tre saggi, avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, trovato il bambino, tornarono ai loro paesi seguendo un'altra strada. Erode, vedendo che i magi si erano presi gioco di lui, ordinò che a Betlemme venissero uccisi tutti i bambini sotto i due anni. Il tragico fatto è narrato soltanto nel Vangelo di Matteo, che si rivolge principalmente ai lettori provenienti dall'ebraismo. I fanciulli innocenti di Betlemme sono vittime ignare della loro appartenenza a Cristo e la Chiesa li onora come martiri.